Dio dona sempre con abbondanza il suo amore e la sua grazia agli uomini, che invece hanno l'abitudine di misurare le situazioni. Parole di Papa Francesco nell'Omelia della Messa del Mattino celebrata a Casa Santa Marta, nella quale ha commentato un brano della lettera di San Paolo ai Romani proposta dalla liturgia. Con abbondanza Dio dà la salvezza, che è l'amicizia tra noi e Lui, perché il suo amore è senza misura, come quello del padre che riebraccia il figlio, che credeva perduto. Dio non è un Dio meschino. Lui non conosce la meschinità. Lui dà tutto. Dio non è un Dio fermo. E lì guarda, aspetta che noi ci convirtiamo. Dio è un Dio che esce, esce a cercare, a cercare ognuno di noi. Ma questo è vero, è che ogni giorno Lui ci cerca, ci sta cercando. Come ha fatto, come ci ha detto nella parola della pecora smarrita o della moneta perduta. Cerca. Sempre. E' così. è vero, noi sempre abbiamo l'abitudine di misurare le situazioni, le cose con le misure che noi abbiamo. Le nostre misure sono piccole. E per questo ci farà bene chiedere lo Spirito Santo, la grazia, pregare lo Spirito Santo, la grazia di avvicinarci almeno un po' per capire questo amore. E avere la voglia di essere abbracciati, baciati, con quella misura senza limiti.